ciao a tutti ed eccoci qua con un nuovo video su eFootball 2024 buon inizio settimana e penso che non potevamo iniziare meglio di così perché oggi vi propongo subito un modulo delle vecchie glorie una squadra che mi avete richiesto in tanti stiamo parlando della juventus di allegri 2016-2017 quando Iguain era il protagonista dell'attacco della signora d'Italia bene ragazzi vi chiedo subito un like sulla fiducia per questo video perché sono sicuro che vi piacerà perché ho fatto un lavoro certosino ma dopo lo andiamo a vedere vi ricordo che trovate il link per entrare sul mio gruppo telegram in descrizione a questo video e poi trovate anche il link per andare sulla pagina ufficiale del canale di eludo iscrivetevi anche lì perché lì porto su eludo agenzia con cui collaboro porto la scalata delle divisioni quindi se volete vedere anche la mia scalata se siete interessati passate da eludo detto questo ragazzi torniamo a noi torniamo qua sul canale di magic gamer youtube perché oggi andiamo a vedere una squadra che secondo me è molto molto funzionale è molto divertente da utilizzare ed è molto particolare allora ragazzi ci ho messo un po a farla perché ho avuto qualche problema scelta su certi tipi di giocatori ma che ora vi spiegherò il tutto quindi io direi di iniziare partendo dall'allenatore allora ragazzi per il materiale che ho trovato c'era scritto che la juventus 2016 2017 di allegri ripartiva comunque dal basso passando sempre diciamo bene o male e dalle mediano che era pianici quindi dai piedi di pianici per impostare dal basso un'azione vedendola così subito sono andato a optare per il possesso palla ma nell'andare avanti nell'impostare giocatori su giocatore nel formare l'azione arrivato in fondo c'era un qualcosa che non funzionava finché dopo verso diciamo dopo tante partite che ho provato in possesso palla ho capito che il problema era proprio il possesso palla passando in contropiede veloce si era tutto sistemato è stata una cosa incredibile perché questo perché i contropiede veloci dall'ultimo aggiornamento secondo me si inseriscono meno di prima la difesa si riesce a difendere di più ma si riesce anche a creare un po più di gioco di palla di passaggi quindi diciamo non è un po sesso palla ma si riesce comunque a creare delle buone azioni creando gioco quindi mettendo il contropiede veloce ho risolto i problemi che non riuscivo a diciamo realizzare in campo su EFU 2024 come era quella Juventus e adesso li andiamo a vedere bene quindi la scelta del contropiede veloce è per quello ma comunque ci sarà l'impostazione diciamo dell'azione di gioco sarà comunque un inizio di possesso ok bene detto questo ragazzi direi di incominciare e vediamo già che partiamo subito con una cosa un po strana un portiere vabbè ok in porta c'è un portiere però non è offensivo perché la Juve aveva Buffon in porta che era proprio un portiere difensivo e lo ricalcano cioè in quelle diciamo che negli articoli che ho letto i video che ho pochi video che ho trovato purtroppo e ricalcavano appunto che era un portiere molto forte diciamo tra i pali quindi il portiere forte tra i pali che era diciamo una sala cinesca una sicurezza che aveva appunto la Juventus ci vuole un portiere difensivo quindi andiamo contro diciamo quello che di solito chiede EFU 2024 e ci mettiamo un portiere difensivo già da qua capiamo che è molto strano come modulo poi partiamo con il terzino destro terzino destro ragazzi è optato per in realtà per entrambi i terzini per un terzino senza stile di gioco attivato e inizialmente l'ho partito con l'utilizzarlo in possesso palla perché vi ho sempre detto che i terzini diciamo senza stile non vanno né troppo su né tendono a stare troppo indietro quindi riescono a dare quel gioco di possesso in più ma comunque senza lasciarti troppo scoperto e in effetti l'inizio come vi ho detto avevo impostato il possesso palla ma sono dovuto arrivare a cambiarlo perché se no non funzionava tutto il resto che si parla della parte d'attacco ma poi ci arriviamo però devo dire che da quando hanno aggiornato il contropiede veloce non girano malissimo magari non sarebbe una scelta che farei per un mio modulo da fare le scalate può essere che andrei a mettere forse due difensivi può essere ok però questa Juve difensivi non erano quindi non posso che andare a mettere due terzini che si difendevano ok quando c'era a difendere in questo caso qua a destra c'era Rich Steiner però quando c'era da andare andavano in offensiva però non era un offensivo continuo ok anche perché aveva due esterni davanti quindi stava al pari diciamo un po' più avanti verso il centrocampista all'altezza del mediano dicevano e davano un aiuto ma quando c'era il bisogno potevano anche andare in fascia per dare una mano all'attacco e il senza stile diciamo che grazie ai nostri comandi soprattutto con magari 1 2 magari una manovra offensiva dandogli dei comandi con l'1 2 e l'inserimento riesce comunque a inserirsi quindi dopo dobbiamo fare noi in maniera che si muove perché mettere un offensivo dopo non è più la difesa che ne parlava perché appunto dicevano che nei calci d'angolo soprattutto erano molto i terzini che a volte stavano un po' più indietro perché i due centrali andavano tipo a colpire di testa ho fatto anche diciamo la tattica per i calci d'angolo forse è la prima volta che succede in un modulo che vi porto delle vecchie glorie o dei moduli del calcio moderno però ragazzi ho trovato anche quello quindi l'ho inserito quindi andremo a vedere anche i calci d'angolo sperando che nella partita di prova ne abbiamo almeno uno ok bene quindi sono andato sulla scelta del mettere un giocatore che può fare il terzino ovviamente come vedete al campo di gioco sia destra che sinistra ma senza stile stessa cosa vale per sinistra quindi quello che vi ho detto per la destra valeva anche per Asamoah Asamoah che quell'anno comunque anche lui poteva andare in progressione sulla fascia ma non era la cosa principale che doveva fare era un giocatore che poteva si aiutare in attacco ma che comunque cercava di tornare per la difesa poiché magari non poteva essere il suo forte però era quello che doveva fare un po come quello che doveva fare di Steiner era abbastanza specchio da quello che io ho letto e ho visto quest'anno ragazzi perché poi se uno va a vedere il 2017 o il 2018 la Juve è già diversa il 2015 e il 2016 è ancora diversa quindi io sto parlando 2016-2017 mi raccomando perché ho fatto fatica a trovare più l'anno giusto perché non è una squadra che è durata tanto ci sono tanti cambiamenti della Juventus in quel periodo lì e quindi preciso 2016-2017 poi come difensore avevamo Bonucci a destra ok quindi ho messo un difensore di sviluppo che abbia un buon lancio col passaggio lungo perché era quello che faceva Bonucci c'è passaggio calibrato non c'è tante abilità di passaggio delite è vero non c'è neanche passaggio scavalcare però doveva essere anche molto alto e non ne ho uno alto di destro che abbia tutte quelle caratteristiche quindi visto che molto forte effessivamente questa carta qua l'hanno tutti comunque non mi sono trovato affatto male nonostante è passato un po' di tempo che è uscita quindi io ho messo delite e devo dire che comunque mi sono trovato molto bene e invece difensore centrale di sinistra un mancino incontrista che era Chiellini e qua non ho avuto proprio dubbio da come hanno spiegato come si muovono eccetera vi assicuro che era un incontrista e uno sviluppo e ci sono delle carte di Chiellini vecchie se le avete potete anche di Bonucci se le avete potete fare la vera coppia questo sarebbe molto bello peccato che non ce l'ho mancino incontrista sempre molto alto e più alto che ho diciamo un po' bravino anche con i passaggi in realtà Chiellini non era bravo con i passaggi e lo dicevano proprio però non gli posso togliere statistiche a questo giocatore vabbè è una cosa in più poi chiaramente se dobbiamo giocare sul football più forte è meglio ragazzi non dobbiamo per forza andare a prendere anche le pecche che avvino con i giocatori dobbiamo comunque giocare al football dobbiamo fare una scalata ok quindi secondo me i migliori che potevo mettere con questi stili di gioco e con diciamo per giocare bene al football ho pensato a questa difesa qua poi andiamo avanti e troviamo il mediano il mediano che era appunto Pjanic ho scelto un tra le linee perché è un giocatore che comunque e dava dirigeva il gioco della Juve dove i palloni passavano tutti da lui era destro quindi ho scelto alla fine un De Jong che comunque molto bravo quel passaggio come vediamo non è male neanche in difesa questo non ne parlavano non ho trovato niente a livello difensivo per Pjanic però comunque visto che c'è qualche statistica anche di difesa perché no è veloce accelerazione Pjanic forse è un po' più lento però comunque ho pensato a un giocatore che abbia tante abilità tante abilità di passaggio come vedete passaggio di prima passaggio filtrante passaggio calibrato perché lui proprio era il cuore diciamo del giro palla diciamo della Juve che cosa succedeva come capitava Bonucci che poteva fare dei lanci lunghi direttamente alla punta ai guaine o a volte anche all'esterno che poteva essere quadrato per lanciarlo quando invece passava diciamo il passaggio dell'azione passava sui piedi di Pjanic lui o dava la palla praticamente ancora alla punta o dava la palla diciamo al trequartista o poteva anche dare la palla gli esterni cioè decideva proprio lui il gioco della squadra e soprattutto poteva anche iniziare un'azione dando palla senza mai salire quindi non faremo mai con lui ragazzi l1x almeno che non lo vogliamo fare per un'azione particolare perché Pjanic si inseriva davvero davvero poco era raro capitava capitava ma di solito quello che si andava a inserire era l'altro che ne parlava come centrocampista però per questo commesso mediano centrocampista che adesso andiamo a vedere comunque stavo dicendo il mediano che fa gioco a qualsiasi tipologia di giocatore che aveva davanti ok a volte dava la palla anche a Lukaku però non si arriva mai quindi non usiamolo mai con l1x mi raccomando possiamo fare un r1x intelligente per uno schema ma non facciamo l1x perché chiaramente andrà sicuramente in attacco per questo mediano abbiamo in effetti delle istruzioni individuali che gli ho dato ancoraggio e difensivo perché perché nelle ripartenze delle juve dal basso il primo giocatore con cui andava palla non era questo centrocampista che dopo andiamo a vedere chi è e perché ho scelto questa carta perché vedete un Milinkovic Savic che l'ho comprato apposta per fare questa squadra tanto come CLS ora ci arriviamo perché De Jong appena si iniziava l'azione De Jong scusate Piani ci veniva incontro alla difesa si metteva centralmente per poi dopo impostare l'azione quindi mettendo ancoraggio nel momento in cui abbiamo la palla lui praticamente si fa trovare sempre in centro diciamo il campo e difensivo perché così è il primo giocatore dopo la difesa che ci verrà incontro tenendo difensivo e non sale su un attacco come diceva la quindi il difensivo e ancoraggio è d'obbligo e ora passiamo al centrocampista che non è un mediano ma è proprio un centrocampista e un giocatore chiave ma perché ho scelto Milinkovic Savic su tutti i giocatori che ci sono sui football e se volete allora se volete riprodurre proprio la juve di quel tempi dovete usare certi giocatori particolari difensori alti sicuramente una sinistra rincontrista cosa che di sotto lo metto dall'altra parte lo sapete e a destra lo sviluppo e soprattutto i giocatori chiave perché Chedira faceva poteva e spesso faceva gli inserimenti pericolosi della squadra e lì andava a creare caos panico perché quando si inseriva lui andavamo cioè la juve andava dico andavamo ragazzi perché comunque sono simpatizzante della juve e quindi andava andava inserirsi per creare superiorità numerica e creare caos diciamo nell'area ho provato con vari giocatori ma il migliore era il giocatore chiave però diceva che Chedira serviva era un giocatore anche molto alto e possente giocatori chiave molto alti o più alto che ho trovato è stato Milinkovic Savic quindi ho scelto lui l'ho comprato per fare questo video se volete sapere sono 120 mila GP l'ho diciamo ho fatto il progresso in maniera che secondo me poteva servire per questo tipo di modulo l'importante comunque è che sia un giocatore chiave molto alto ma comunque in teoria dovrebbe avere un po più di abilità in difesa purtroppo non l'ho trovato uno ha bene in difesa giocatore chiave alto e comunque delle statistiche buone quasi in tutto e facendo così con questo allenatore ragazzi non ho scelto comunque allegri come allenatore per il contropiede veloce perché basso ho messo l'allenatore più alto che avevo per portare al massimo anche i giocatori così vedete quanto possono arrivare anche questi giocatori perché se ripeto se volete fare al meglio la Juve vi consiglio proprio qua Milinkovic Savic io in panchina ho un altro centrocampista che è De Paul ma non c'entra niente ok non c'entra niente l'altezza non c'è poteva andare bene tutto il resto sì forse un po troppo veloce De Paul è meglio Milinkovic Savic per ricreare quel che dirà però vi dico che è importante che sia alto ok perché nei calci in angolo era uno di quelli che andava a saltare insieme a De Litte insieme a Chiellini e poi c'era anche Mandzukic che ora andiamo a vedere quindi giocatore chiave comunque che si va a inserire si inserisce quando prende palla diciamo piano si inserisce subito per per far superiorità e per cercare anche un inserimento oppure faceva in maniera di fare un'azione in maniera che dopo andava a ricadere sui piedi di Chiedira nell'ultima parte della delazione nella parte di campo offensiva della Juve poi andiamo a vedere questo CLS che c'era Mandzukic ragazzi per ricreare Mandzukic ci ho messo un pochino allora ho messo non è presente perché comunque si andava a inserire quando dopo in area si poteva allargare perché poteva allargarsi per ricevere palla e col suo fisico tenerla per poi aspettare l'arrivo di Asamoah non è presente perché comunque tante volte tornava indietro e veniva ad aiutare per quasi fare una difesa a 5 quando si era da chiudersi in più poteva anche andare a pressare verso il centro campo perché lui era un tuttofare allora tuttofare va bene ok ho messo non è presente ma perché sono andato a scegliere questa carta di Rabiù che ho potenziato fatto il progresso per fare questo video e gli ho dovuto anche aggiungere diciamo come diciamo abilità per fare il ruolo del CLS quindi ho dovuto usare una carta di cambio ruolo per fortuna che al primo tentativo lo sono andato a beccare mi ha dato il CLS e quindi arriva a 96 se non erano 84 mi sembra era un po bassino perché però ho scelto questa carta Rabiù e voi direte ma Magic io non ce l'ho ok vi dico le caratteristiche di trovare un onnipresente che faccia il CLS che sia molto alto perché Manzotti c'è la sua forza era all'altezza perché anche lui poi nei calci d'angolo andava a colpire di testa ok infatti in questa tattica andremo anche a vedere i ruoli partita che andiamo a vedere alla fine ok quindi ho scelto un onnipresente come Rabiù che è molto alto poi magari Manzotti c'era più alto però non ho trovato altro anzi era destro lui è Mancino fa lo stesso vedete competenze posizioni ha giunto il CLS bene per il resto abilità giocatore in teoria ci voleva una filizzazione maggiore ci voleva un piede destro perché alla fine era una punta una punta che veniva adattata anche come esterno adesso non possiamo avere tutti nel football secondo me la miglior carta che io avevo nel mio club era questa qua quindi c'è stato anche un lavoro per trovare questi tipi di giocatori spero che lo appreziate trequartista trequartista ragazzi ci aveva Dybala quello che adesso è la Roma ok Dybala il fenomenino Dybala gran giocatore e classico numero 10 ci voleva un classico numero 10 perché praticamente lui si inseriva quando c'era l'opportunità e gestiva la palla qua dopo che gli la passava piano cioè comunque quando riprendevano palla in attacco era Dybala che gestiva il tutto provava anche il tiro da fuori tirava i calci di punizione e comunque era fulcro diciamo di gioco di questa squadra e alla fine tutto quello che può fare questo non tornava più di tanto in difesa ma cercava di restare su tornava solo in caso di bisogno quindi classico numero 10 è perfetto in più io ho Dybala classico numero 10 in banchina chiaramente ho portato Maradona ragazzi va benissimo anche Maradona se avete solo Maradona però visto che io l'ho preso con diciamo i contratti 5 stelle ho messo proprio Dybala visto che questo questa settimana non è più Dybala ok poi invece esterno c'era di c'era quadrado che ragazzi non pensate di mettere quello gratuito perché è uno specialista di cross qua ci vuole un giocatore chiave perché questo giocatore qua spesso e volentieri andava o si allargava e provava a tentare dopo più che un cross un passaggio indietro per Dybala oppure tante volte quando c'è la possibilità si andava ad accentrare per andare in porta qualche gol è anche successo oppure quando dopo si accentrava dava la palla a Higuain Higuain che è una punta che cosa faceva? Higuain tante volte quando c'era un inizio dell'azione della squadra scusate si abbassava e qua io subito scelto per un attaccante di rientro il problema qual è che oltre che a volte si abbassa per cercare il lancio come aveva detto prima da Higuain tante volte teneva palla anche col fisico diciamo si è abbassato la palla col fisico per dopo dare la palla a qualcun altro per poi ripartire inserirsi e fino a lì l'attaccante di rientro funzionava forse anche meglio della pace d'aria perché la pace d'aria si abbassa ma non così tanto il problema che l'abbassarsi così tanto andava in contrasto col classico 10 e qua se mettevo regista creativo ragazzi non facevo movimenti che ho trovato che faceva di bala in più in più c'è il problema che la Higuain in fase di non possesso fa molto pressing ma attenzione il pressing lo fanno soprattutto questi quattro giocatori qua e l'attaccante di rientro di pressing ne fa pochissimo invece la pace d'aria ne fa molto di più e visto che è stato una cosa proprio che hanno specificato tanto questa cosa qua il pressing dell'attaccanti allora ho preferito alla fin fine traguardare la fase di non possesso la fase di possesso perché comunque incontro ci viene e poi spesso si usava il fisico per girarsi ho preferito essere mettere una pace d'aria chiaramente con le statistiche di fisico. Higuain era 1.85 Lukaku un po' esagerato è 1.91 c'è un contatto fisico molto più forte volendo potete trovarne altri abbiamo anche questo game è un po' troppo lento per il gameplay che c'è adesso ragazzi oppure vabbè c'è Romario ma non c'entra niente con Higuain secondo me tra quelli che ho io è più adatto più che altro non per ricordare Higuain ragazzi ma per il più adatto per il gameplay che c'è mettete se avete Lukaku va benissimo ragazzi quindi l'attaccante di rientro non lo farà del tutto come fa proprio l'attaccante di rientro ma si abbasserà ed è già abbastanza per far girare la squadra e fare quei movimenti che comunque faceva Higuain pur se è anche per questo che hanno aggiunto questa cosa della pace d'aria una volta non lo faceva adesso da quest'anno comunque si abbassa un po' di più anche lui non come attaccante di rientro lui fa una sorta di movimento così attaccante di rientro viene proprio giù giù ragazzi e quindi ho preferito alla fine mettere il rapace d'aria soprattutto per la fase di non possesso ragazzi che questi quattro giocatori pressavano davvero in modo intelligente mentre Rabiot pressava di qua l'altro pressava diciamo il difensore in maniera che non gliela poteva passare il trequartista da pressare magari in mediano in maniera che se trovavano l'errore riuscivano poi a lanciare i guaini per andare in gol invece la difesa stava molto alta in fase di non possesso infatti il contropiede veloce lo fa ma pressava al momento giusto quello che pressava di più era l'incontrista appunto Chiellini che spesso era anche l'uomo che faceva il fallo tattico a volte un po' più di tattico e soprattutto cercava di anticipare diciamo la palla quando doveva arrivare all'attaccante ok come fa appunto l'incontrista poi è anche vero che usavano delle marcature a uomo ma il problema è che questo lo faceva tutta la difesa anche i terzini da quello cavoletto e qua non possiamo farlo anche perché mi devo dire che mi ho scordato prima di dirlo quando stavamo parlando di Manzokic che vi ho detto che spesso veniva a fare anche il quinto difensore oltre che fare il tutto fare della squadra in istituzione individuale dobbiamo andare a mettere linea bassa perché così in fase difensiva lui viene praticamente molto basso al pari dei difensori come appunto c'era scritto quindi ho ricreato la difesa 5 quando ce n'è bisogno e quindi rimane soltanto uno per fare una marcatura stretta a quel punto la marcatura diciamo a uomo che faceva la Juve forse quella non riusciamo a riprodurla qua su eFootball ma noi faremo una marcatura zona per il gioco ma tutto il resto ragazzi direi che è perfetto ve lo posso assicurare poi lo vediamo nel gameplay ultima cosa prima di andare in partita sono vabbè ruoli in partita che soprattutto è punizione corta di Dybala ok e un'altra cosa veramente valida era De Jong che era Pian ci faceva i calci d'angolo e anche qua perfetto il rigorista era comunque penso Dybala o Iguain adesso non lo so comunque poi ho messo Dybala e poi dobbiamo guardare i giocatori d'attacco che di solito non li faccio perché non trovo specifiche sui calci d'angolo sulle palle da ferme ma qua le ho trovate e Bonucci Chiellini cioè i nostri difensori centrali andavano a saltare e anche il nostro Mandzukic ci andava anche che dira che il nostro Domenico Vissavic ma senza metterlo qua ed è per quello che ho scelto questi tre il giocatore chiave andrà in mezzo a saltare quindi ci ritroveremo nei calci d'angolo a 1 2 3 4 e chiaramente anche la punta 5 in mezzo all'area a saltare chiaramente cosa facevano? crossavano in mezzo e ci pensava appunto a farlo ci pensava Pianici boh ragazzi io direi che ho detto tutto siamo pronti quindi per andare a provare a provare diciamo questa squadra questa Juve 2016-2017 vi assicuro che l'ho studiata nei miei dettagli o meglio di così non sono riuscito a fare sono contentissimo se non fosse per le marcature a uomo ragazzi ma quelli non posso potete inserirne una ma andare a inserire una sola vi va a creare problemi in difesa ci vorrebbe la marcatura uomo su tutti i giocatori ma non è stato possibile quindi so che la marcatura non è la zona però ragazzi siamo nei limiti qua non è un limite mio se qua il football ce ne mettesse tipo 2 in più o 3 in più riuscivo anche a fare le marcature ok allora ragazzi cosa è importante difensori alti il giocatore chiave alto il cls ogni presente alto per andare a colpire di testa anche dei calci d'angolo i calci d'angolo li andiamo a vedere vi faccio tutorial per come secondo me possiamo andare a ricostruire quello che faceva la Juve lo possiamo andare a ricostruire e ve lo faccio vedere perché bisognerà attivare una piccola tattica prima di corsare in mezzo ok e direi che siamo a posto andiamo in partita ragazzi spero che appreziate tutti questi dettagli che vado a cercare compro i giocatori apposta per farvi vedere la squadra insomma cerco davvero di fare più completa possibile quindi qua oltre che la squadra ho dovuto trovare i giocatori giusti dargli anche il ruolo giusto insomma davvero spero che apprezzate tutto questo lavoro perché detto c'è un lavoro lunghissimo su questi video sia sul calcio moderno sia soprattutto sui moduli delle vecchie glorie bene ben trovato un avversario 4 tacche ma tanto non cambio quando laga laga ragazzi gg riva bene andiamo siamo in casa allora in casa ragazzi direi di fare così stadio lasciamo e il football stadium perché non c'è quello della juve e mettiamo soltanto estate andiamo avanti le magliette purtroppo sappiamo che non sono quelle originali ma lasciamo comunque questa bianco nera l'astro avversario lo mettiamo tutto il rosso e va bene così ok guardiamo che sono tutti i giocatori boh abbiamo anche di bala su perfetto sono contento dove portiere al massimo e va 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 bene a come 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 cls di ricambio ho lui che però non non sono stato qua a dargli anche lui cambio di ruolo ragazzi perché sennò qua ce ne andavano davvero tanti ed è difficile che me la dava e ho messo quindi sì perché è un 85 non è altissimo ma è un altro onnipresente e vi posso consigliare se volete riprodurre appunto quell'altezza che aveva manzukic ok bene ragazzi qua i giocatori sono molto importanti questo gioco con torpede veloce tutto centrale veloce con questo trequartista è un modulo che mi è già capitato di vedere anzi mi ricorda molto quello di salvo dire la verità il mio iscritto che ho portato già un video che l'avevo modificato vabbè andiamo a vedere com'è contro pede veloce noi contro pede veloce lui ragazzi e andiamo a provare questa juve via allora non ci fissiamo con e football a ripartire sempre da mediano tra le linee non ci fissiamo sempre su quello come faceva la juve perché nel football se ti pressano ti rubano palla prendi gol usate anche l'apertura dei terzini anche se in realtà non veniva usato spesso sulla juve ma è il gioco che ci obbliga a farlo mi raccomando se no perdete sempre spesso palla con soprattutto contro pede veloce che mi pressano ok vedete che pianici già marcato quindi il nostro de jong vedete in mezzo a tre non gliela dare di sicuro adesso gliela posso dare quindi la juve facciamo così e poi ripartiva da vedete che comunque lukaku resta basso ma non bassissimo come un attaccante rientro ma meglio così queste cose non dovremmo farle ragazzi infatti non ha funzionato perché comunque dobbiamo un minimo costruire siamo in contro pede veloce ma si riesce a costruire dopo quell'aggiornamento ok se lo provate in possesso palla cosa succede il problema è che si inseriscono veramente pochi giocatori e lì e dopo diventa un problema perché gli inserimenti di quei tre sono fondamentali puntiamo sulla palla verso diciamo come faceva bonucci e ripartiamo e qua ci sono inserimenti vedete subito e manzo che si inseriva perché si inseriva sia manzo che ci sia quadrado e di bala si inseriva al momento giusto quando vedeva il buco giusto oppure faceva tipo da regista vedete ma di bala trovato adesso provate che l'attaccante viene giù quindi anche rapace d'area funziona ragazzi e allora vi consiglio rapace d'area questo è un errore nel senso che non devo farlo per fare la giocata della juve ok vedete il terzino che comunque non è altissimo ma neanche bassissimo è giusto guardate lui che si abbassa ancora la punta nonostante un attaccante rientro quindi è perfetto vedete che comunque anche qua il terzino va in profondità ma non è un offensivo lo fa solo quando c'è bisogno gli chiediamo nel 12 e sono riuscito quindi a ricreare perfettamente quello pressiamo nella parte offensiva anche qua quando arrivano che passano diciamo centrocampo non pressiamo a testa bassa mi raccomando e cerchiamo di anticipare magari passaggi come faceva appunto quella juve vedete però come sta bassa perché comunque e guardate non imprese guardate di bala l'onipresente si è abbassato per andare in difesa di bala per il suo posto quindi non tranquilli che comunque c'è sempre qualcuno al posto dell'onipresente ci pensa di bala perché il classico 10 nel football si va a inserire quando lo ritiene opportuno e visto che non c'è ed è ancora basso vedete rabbio avendo difesa bassa guardatelo è lì ok ci viene a dare una mano chiaramente dopo ci pensa di bala andare a spostare prendere il suo posto quindi tranquilli che dite ma con difesa bassa rabbio non c'è mai è vuol dire che adesso arriva vedete ora arriva riprende il suo posto guardate rabbio perfetto però il manzo che ci faceva proprio anche questo ragazzi e nella riprodurre non è stato una cosa semplicissima ragazzi sto parlando chiaramente per far vedere tutti i movimenti ci sto anche riuscendo senza prendere gol perché sapete che dopo quando parlo un casino bene andiamo passiamo dalle piedi di pianici che in questo caso è de jong ecco adesso apriamo la marca apriamo l'inserimento cosa ho sbagliato io il giocatore vedete questo pressi qua dovete fare ecco e qua c'è la ruba la palla dovete fare questo pressi ecco quando non c'era diciamo era pace d'aria questo pressing era meno cattivo e questo invece quello che voglio perché quando loro prendono palla quella juve ti pressava e poi se ti rubano palla sei qua e fai questi gol quindi questi gol non è una fortuna è una stata una ricercatezza da parte mia di creare questo pressing ed è per questo che alla fine è stato uno di quei momenti dove ho detto cavoli il possesso palla non pressa però così tanto allora ci vuole il contropiede veloce cavoli non si inseriscono così tanto però i movimenti li fanno ma non si inseriscono non pressano tanto e allora è stata un'altra scelta per andare sul contropiede veloce contropiede veloce ragazzi che però per fare un po' di giro si può fare perché potete fare il giro se ve lo faccio anche vedere vedete perché comunque riuscite a fare del giro palla non è un possesso però se vedete da quando l'hanno aggiornato si riesce a fare vedete qualcosina chiaramente è molto più facile col possesso vi vengono incontri giocatori però ricreare tutte e due non si riesce tutto fare una scelta è loro scelto sul contropiede veloce tra l'altro tebaldi allenatore allegri della juve che era sempre allegri quello che c'è adesso che sarebbe tebaldi perché non ci sono non ha i diritti diciamo il gioco sulla juve però vi posso dire che è il contropiede veloce è possesso palla 75 e 80 contropiede quindi ci sta e poi dopo potete provare anche il tiro da fuori perché l'attaccante diciamo i guaini che rientrava dopo provava anche a volte da fuori se non si inseriva dava palla si inseriva in mezzo all'area ok quindi sono riuscito a ricreare anche vedete l'attaccante che si ribassa con la pace dare sono contento veramente contento così o sia l'abbassamento ok di come facevi guaini e sia il pressing ragazzi c'è adesso abbiamo fatto gol grazie quel pressing che vi dicevo ecco questa cosa senza possesso palla non potete farla e vedete dovete un po giocarla un po più corta e stando attenti ragazzi però non si può avere tutto ragazzi ma comunque gioco si riesce a fare ragazzi si riesce a fare ci vuole un po d'abitudine vedete non è un bel giro palla secondo me si e siamo in contropiede veloce però il giro palla lo sto facendo è chiaro il possesso palla ne fate di più guardate che si si riscontrano tutte e tre qua ci vorrebbe un destro ragazzi e lo so buendo si è più basso però avrebbe il destro ecco pressing ancora e abbiamo ripreso palla subito vedete pressi 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 via e si riparte pressi pressi chiamate anche diciamo l'altro uomo con r1 pressi e si riprende la palla è tutto così quando passa il centrocampo ragazzi non dovete pressare dovete usare la testa lì è perfetto ragazzi non funziona male adesso resto un po più in silenzio cerco di giocare un po meglio voi guardate sempre i movimenti ragazzi ora cercheranno di mantenere alto il ritmo per non dare agli avversari la possibilità di recuperare il direttore di gara ha già mandato tutti negli spogliatoi con un solo gol a reperto nonostante il gioco macinato da una parte e dall'altra è tutto ancora da decidere si ripartirà dall'1 a 0 di questi primi 45 minuti partiti siamo già nella seconda frazione di gioco è una cosa intelligente delle portiere difensivo ragazzi anche che non ci rompe le balle nelle uscite quindi dopo quell'aggiornamento lista un po anche rivolutando per portieri ma ve ne parlerò in un nuovo format quando lo porterò ve l'ho già anticipato a tanti di voi che porterò a chi dentro il gruppo telegram quindi se non siete nel gruppo telegram e non sapete alcune cose perché magari non siete nel gruppo entrate nel gruppo perché tante volte a chi è nel gruppo telegram magari mando qualche audio vi dico anche qualche novità del canale che altri magari sconosciuta vedete questo manzo che ha tutto campo incredibile e poi guardate soprattutto l'attaccante che non va neanche in fuorigioco e qua c'è l'inserimento di il classico 10 no errore mio perfetto ragazzi grazie come lo sono messo sul sinistro perché rabbio mancino e se non potevate tirare a giro con un destro se vedete due gol grazie a tutto quel pressing che faccio perché gli rubo palla e poi riparto col processo palla quando rubavi palla stavano fermi ragazzi e allora non aveva senso invece qua guarda rabbio in difesa e poi subito qua ho voluto fare il doppio tocco che non ce l'ha e chiaramente ho mandato tutto all'aria guardate anche il rada guardate il classico 10 come come si abbassa si abbassa ma resta comunque lì pronto a che se perdiamo palla inizia subito ad aiutare a impostare l'azione il giocatore chiave che già più avanti il tra linee un po più dietro si è ritirato ragazzi ragazzi si è ritirato allora allora ragazzi con la registrazione fare un'altra partita non riesco io direi che comunque abbiamo visto tutto i movimenti non importava non era importante vincere perdere fare bene l'importante era farvi vedere i movimenti di questa squadra penso che con le spiegazioni che vi ho dato prima della partita e durante la partita direi che si è visto tutto quindi io direi che questo video può finire qua questa è la juve di alleghi 2016-2017 spero che vi sia piaciuto mi raccomando bombardatemi di messaggi qua sotto i commenti cliccate il mi piace ok voglio vedere esplodere questo mi piace perché veramente ho fatto un lavoro ai calci d'angolo ne abbiamo visto ragazzi abbiamo visto i calci d'angolo allora i calci d'angolo avete ragione se qualcuno se lo stava chiedendo i calci d'angolo praticamente dovete mettere area piccola area piccola vi troverete uno due tre quattro cinque in area quindi la punta il cls il cc il dc il dc mettendo ovviamente questi ruoli partita difensore difensore e cls quando li va a battere li va a battere dei young quindi vi troverete senza in difesa di difensori senza milinkovici senza di lui e senza rabiù non è presente cosa succede che chi resta in basso a difendere sono i due terzini che si mettono qua però voi dovete fare area piccola cioè freccia sinistra freccia sinistra attivate l'area piccola si spostano in mezzo spostate leggermente l'analogico diciamo per il cross leggermente un po più lontano dalla porta se non un portiere offensivo vi prende la palla e semplicemente senza premere niente solo il cross il cerchio in mezzo come la va la va oppure prendete un giocatore di quelli lì che vi ho detto tra l'elite e gli raccossati in testa e tirate basta se riuscite fate sensazionale r2 è il tiro per tirare la più bassa e può capitare il gol su tre partite non fatti due di testa su calci d'angolo una fatta ora più e una fatta appunto dell'elite ok basta ragazzi del resto direi che abbiamo fatto tutto posso però visto che abbiamo un po di tempo per non per fare la partita posso fare così e non l'ho mai fatto questa cosa ragazzi non l'ho mai fatta ma oggi 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 c'è anche questo succede anche questo ragazzi ve lo faccio vedere in allenamento squadra dei sogni mettiamo calcio d'angolo da da sinistra va bene perfetto allora abbiamo il nostro schema di gioco abbiamo appunto i ruoli in partita vedete quindi sono in mezzo voi dovete fare questa cosa qua c'è de jong sarebbe pianici freccia sinistra e si apre questa cosa qua freccia giù ragazzi non sinistra sinistra di sinistra e giù area piccola finistra giù vedete area piccolo ora si è acceso area piccola dovete tenerlo acceso è così adesso quando è acceso area piccola quindi avete fatto sinistra e freccia giù ok se lo rifate sinistra freccia giù ve lo toglie guardate vedete quindi freccia giù e annulliamo tutto frea allora siamo così ragazzi ok ecco calcio d'angolo scusate freccia sinistra e freccia giù area piccola l'abbiamo attivato tranquilli vedete che vanno tutti in area piccola spostate leggermente e crossate senza toccare niente analogico in avanti niente solo con il cross dovete crossare più o meno metà poi vi abituerete poco più di metà e poi andate a tirare questo è un modo vedete che è troppo largo mi sono allargato troppo bene provate ad attivarlo così area piccola e crossate senza muovere niente dovete trovare praticamente in maniera che il portiere non esce vedete che è troppo lontano bene allora quello dopo dovete allenarvi un attimo e adesso vi faccio vedere così è perfetto secondo me area piccola appena vedete colpite ancora spostate leggermente area piccola metà un poco più e tirato sempre così chi c'era in difesa guardate in questo caso belli danilo di solito ci sono i due terzini ragazzi ok dopo questo fantastico tiro vi faccio vedere l'ultima volta quindi freccia sinistra freccia sinistra giù area piccola quindi freccia giù invece entrate un po cross questo è perfetto e poi tirate vedete voi ragazzi questo era quello che faceva la juve volete fare diversamente fate quello che volete ok io vi saluto però prima voglio fare il gol perfetto dovevo chiudere quel gol ragazzi bene ragazzi quindi interrompiamo allenamento oggi finiamo questo video nello schema di gioco qua perché vi ho fatto vedere anche i calci d'angolo visto che in partita non c'era quindi freccia sinistra freccia giù per attivare area piccola accentriamo bene il tiro magari fate qualche provi in allenamento come ho fatto io crossate normale e avete ben 1 2 3 4 5 giocatori in area se no fate i calci d'angolo come volete voi potete anche fare la juve da tiro le partita li tirate via io vi ho anche riprodotto i calci d'angolo come faceva la juve va bene io ragazzi dire che ho finito il like dovreste averlo già messo quindi non ve lo chiedo se no me lo togliete se lo ricliccate è niente ragazzi commentate e mi raccomando noi ci vediamo domani perché domani penso che si andiamo non lo so se la scalata o forse il nuovo modulo che utilizzerò per la scalata non vi dico niente perché ci sarà una sorpresa ho cambiato modulo ciao a tutti